Folla. Avveniva davvero o era solo la fantasia di una bambina che aveva sognato di diventare una grande stella? Intorno alla residenza si affollavano migliaia di persone, pregavano e si inghiuzzavano. Non poche di esse offrivano a Dio la loro vita in cambio della sua. Cadeva una pioggerellina leggera ma gelata. Eva Peronna moriva. Moriva dolcemente. Eroicamente. Con dignità esemplare. Alle 8 e 25 respirò profondamente e senza alcuno spasimo rese la sua anima al creatore. Spetta alla Vice-Segreteria di Informazioni della Presidenza della Repubblica il penosissimo compito di informare la popolazione argentina che alle 20 e 25 è morta la signora Eva Peronna, guida spirituale della nazione. Il mondo intero pianse per la sua morte. Il suo corpo imbalsamato rimase esposto al Ministero del Lavoro per 17 giorni. Due milioni di persone, dopo ore di attesa, sfilarono di fronte al suo cadavere. Un fenomeno che, per la sua grandiosità, non aveva precedenti nella storia d'America e probabilmente del mondo. E probabilmente del mondo. del mondo. E probabilmente del mondo. E cambiare e lasciare vivere il nostro querido Sempre tra la ventana, sin lugar da puerto Non è facile, però mai me faré de sognar E solo te aconseguire la fe che quedi e compartire No llores por mi Argentina, mi alma está contigo Mi diventerà, te la dedico Ma non ti ha detto che necessito E così E così E così mentiras di che non dormire mi lugar vuestro es por vosotros luché io solo chiede un giro su piacere poter intentar abri mi ventana isabella che nonca me fai a olvidar non lloré per me, Argentina non lloré per me, Argentina mi halla en paz contigo mi vida entera llena dentro ma no te alejo mi necesito che mai puoi dire per me, Argentina per me, Argentina per me, Argentina mi amor 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 mi amor